Ore 16 e 25 abbiamo appena consegnato le opere a Daniele Spisa e siamo in un luogo magnifico, la sua motolocanda è quindi aperta sempre ai turisti e a coloro che sono gli amanti del bello, dell'arte, della pittura. Daniele Spisa è anche un grande scenografo e vi ho appena fatto intravedere un dipinto a cui sta lavorando.